Eccomi qui per iniziare a truccarci insieme Io ho già preparato un po' di cosine, cose che mi sono arrivate, cose che ho comprato Ultimamente perché ho fatto dello shopping compulsivo da NYX E ho preso delle cose che non avevo mai provato, quindi le testiamo anche insieme E già che ci sono vi faccio vedere come faccio le sopracciglia Per chi ha appunto i capelli ginger come i miei Come vedete sono anche diversi ma adesso ve ne parlo meglio Partirei con i prodotti di Nabla, questo qua è il Neptune Brow Pot, scusatemi Nella colorazione Neptune che è quello che ho sempre utilizzato Poi ho comprato anche la Brow Pencil di NYX Questa qua è nella tonalità Auburn Brun Rouge Purtroppo però è troppo troppo arancione Infatti inizialmente vado a disegnare la forma con questa Poi dopo metto sopra Neptune di Nabla E poi dopo picchietto questo colore qui della palette di Huda Beauty, la Rose Gold Edition Faccio un mix con Hanna e quest'altro un po' più scuro che si chiama Coco Vedete che è tanto tanto rossa, però la uso solo come base giusto per andare a colorare il fondo Lasciate stare che ha una ricrescita delle sopracciglia orribile Lo so, le dovrei fare ma pigrizia portami via Sicuramente domani me le sistemo perché poi andrò a Bologna Che ci sarà l'apertura dello store di NYX Spero di vedervi in tantissime E sono molto eccitata per questo evento perché in tantissime mi chiedevate in continuazione di fare l'apertura a Bologna E anche quella di Napoli mi avete chiesto Io non lo so purtroppo se mi chiameranno Lo saprò all'ultimo, lo saprò in base ai vostri commenti che lasciate sotto la pagina di NYX Quindi se mi volete alle aperture scrivete sotto la pagina di NYX Cosmetics Italy su Instagram Che mi volete, se vi fa piacere appunto che io ci sia Che loro, credo poi in base a quello, contattino appunto chi è richiesto E come state? Come vedete io ho cambiato capelli e non vedo l'ora di parlarvene C'è stato praticamente un disguido Se vi ricordate bene due video fa, prima del video assaggi Avevo i capelli più simili a questo colore qui, ecco Perché me lo ricordo proprio questo Quando li avevo fatti la prima volta Il parrucchiere mi aveva detto di tornare per ripigmentare il capello Perché avendo comunque sotto una base decolorata Sarebbe stato opportuno ripigmentarlo Proprio per non andare a far scaricare troppo il colore Io sono ritornata neanche una settimana dopo Perché è così che mi avevano chiesto di fare E quando sono entrata il parrucchiere appunto mi ha chiesto Se volevamo andare a caricare il colore E io giustamente ho detto sì, va bene Perché pensavo che mi andasse ad applicare di nuovo la stessa tinta sopra In realtà così non è stato perché come sapete bene Perché chi mi segue su Instagram ha visto le mie varie peripezie E su questo colore Ha visto che ero molto abbattuta Perché il colore che era stato fatto Era tutto tranne che il colore che avevo prima Mi erano stati messi due pigmenti Un arancione e uno un po' più giallino Un rosso e un arancione, perdonatemi L'arancione virava più sul giallino Faceva i riflessi proprio biondi Mentre il rosso è quello che vedete qua Che è proprio rosso rosso Io non volevo questo Cioè io volevo i capelli come erano prima Li volevo mantenere Quindi non volevo un nuovo colore Non volevo un rosso Il problema è che c'è stato un misunderstanding E questo per questa cosa ne hanno sofferto i miei capelli Proprio perché in una giornata avevo fatto Anzi in una settimana avevo già fatto due tinte Cosa è successo? Sono tornata non contenta al pomeriggio con Andrea E Andrea ha spiegato appunto che il colore che avevo scelto non era questo Che già gliel'avevo anche detto io Ma continuava a controbattere dicendo che era il colore che avevo chiesto io Quando in realtà mi sa che ci siamo proprio capiti male E me l'hanno rifatto Mi hanno cercato di far scaricare il pigmento Che non scaricava perché era proprio forte E alla fine mi ha piazzato sopra una tinta La tinta un po' più scura di quella che avevo fatto la prima volta In questo modo è andata a spegnere i pigmenti che mi avevo applicato Facendo uscire un colore abbastanza simile a quello che avevo prima Che per me era appunto decente Però piano piano che le lavo scaricano spero scarichino Adesso diciamo che sono contenta ecco Sono molto rovinati perché in una settimana alla fine ho fatto tre tinte In una giornata due tinte con vari lavaggi e la testa Che la sera quando sono tornata a casa avevo la testa piena di sangue Ve lo giuro Praticamente avevo la testa che mi pulsava A parte il dolore perché mi avevano fatto in tutto cinque lavaggi In una giornata con due tinte Sapete che la tinta si fa sul capello Cioè è consigliabile farlo sul capello sporco Proprio perché il sebo protegge Lo sporco insomma protegge il capello e la cute soprattutto Dagli agenti chimici della tinta Quindi la tinta è andata direttamente sulla mia testa Super lavata, super trattata La cute si è praticamente ustionata diciamo Da questi lavaggi e queste tinte Che mi perdeva sebo e sangue È una cosa veramente bruttissima Non l'auguro a nessuno È come quando fate la decolorazione Per chi soffre di questo problema sa Ero tutta la sera a tamponarmi la testa perché stavo proprio male Cioè mi pulsava, stavo malissimo Quindi il giorno dopo mi sono svegliata Che avevo le crosticine Le classiche crosticine da decolorazione Proprio brutto 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 Un risveglio orribile E me li sono lavati Cosa che mi avevano sconsigliato di fare Ma avevo tutti i capelli appiccicati E non potevo andare in giro così Non potevo toccarmeli Non potevo sdraiarmi Che sentivo proprio il duro dei capelli Della testa Era come se avessi sopra una... Avrete presente quando fate la maschera all'argilla Che vi secca tutto E vi sentite la faccia che non si può muovere Ecco la stessa cosa sentivo sulla cute Sulla testa E questa esperienza per me è stata orribile E adesso ora che rifarò la tinta Ne passerà di tempo perché... Per adesso mi va bene questo colore Mi piace come sta scaricando Lo terrò così E sto cercando di fare degli impacchi alla cheratina Sto utilizzando anche il Bond Ultimate Che avevo comprato io Come vedete qui ho comprato alcune cose di NYX E voglio iniziare ad utilizzare queste Che sono le NYX Nigeri per gli occhi Le Lid Nigeri Matte Allora una nella tonalità 14 Che è questa qua bianca Una nella tonalità 15 Che è un verde militare bellissimo E una nella tonalità 18 Che è proprio un color terra bruciata Stupendo Voglio provare a fare una base bianca Con questa qui Si sfumano veramente in modo Pazzesco anche col dito E l'unica cosa che ho notato Che durante la giornata Se non li fissate bene Tendono a fare le classiche pieghette Come quando mettete gli ombretti un po' cremosi Che fanno un po' delle pieghettine Come base Sempre dalla palette di Huda Beauty Che è quella che sto utilizzando più di tutti ultimamente E lo sapete bene Vado ad utilizzare questo colore qui E lo mixo un po' con Mondas Che è un po' Shimmer Tra l'altro non ho molti pennelli Perché li devo lavare E la voglia per lavarli Non c'è mai Perché sono molto pigra E niente A parte questa cosa Sì diciamo che adesso sono molto contenta Sto cercando come vi ho detto Di risanarli un attimo Con vari impacchi Vari maschere Anzi se avete delle maschere Che mi sapete consigliare Fai da te anche Fatemelo sapere perché Mi devo mettere proprio di impegno A cercare di curarli Adesso vado ad applicare Enna e Coco Lo stessi colori che ho applicato Sulle sopracciglia Per intensificare L'angolo esterno E nella piega Cosa vi racconto Allora vi ho chiesto su Instagram Di farmi delle domande Mi avete scritto Infatti adesso leggerò Un po' di commenti Insieme a voi Per rispondere Vado ad applicare anche Black Truffle Che è questo nero matte Con un po' di bossi E lo picchietto Come vedete Nella parte esterna Adesso volevo ricominciare I weekly vlog Da O da oggi E da domani In base a Alla batteria Della videocamera Insomma Devo caricarla Vi porterò anche con me A Bologna Non vedo l'ora Mi mancavate Mi sentirò sicuramente Un po' imbarazzata Per registrare Perché è passato molto Molto tempo È passata tutta l'estate Da quando non registravo più Ho notato che molte persone Sono tornate su YouTube Anche Antonio E sono molto contenta Del video che ha realizzato Perché Devo essere sincera Mi sono letta Un po' di commenti Sotto al suo video Non mi è piaciuto per niente Quello che alcune persone Gli hanno detto Perché è detto tra di noi Quando uno torna Mette comunque in gioco Cioè ci mette Ancora di più la faccia Perché per voi Sembra un video normale Però se uno Non è più abituato A registrare O comunque ha fatto Ha preso delle decisioni Se lui ha deciso Di fare questo ritorno In casa mia Girando il video Nella mia sala Con me presente Dove facevo la scema Dove lo interrompevo È perché lui Mi ha chiesto di fare queste cose Per cercare di spronarlo A essere il più naturale possibile Perché per voi Sembra facile Vedere un video E dire Ah ok Si è messo lì E registrato Con la videocamera No perché quando Prendi una decisione Di non fare più video Per poi tornare Dopotanto Dove sei comunque Imbarazzato Davanti a una videocamera Perché è normale Imbarazzarsi davanti A una videocamera Perché poi pensi Chissà chi guarda i miei video Chissà cosa pensa Quindi automaticamente Ti viene anche da Non dico fingere Però essere un attimo Più contenuto Rispetto a quello Che sei di solito No E l'essere contenuto Cioè Il contenersi Durante la registrazione Di un video Non è mai bello Perché comunque Cieli una parte di te Che è bello mostrare Ma allo stesso tempo Ti fa paura questa cosa Perché dici Cavolo Chissà chi guarda il mio video Chissà chi lo giudica Chissà cosa pensano di me Mostrarsi a nudo È sempre difficile Come quando Conoscete una persona All'inizio Non siete mai Il 100% Voi stessi Questo discorso Lo faccio perché Riguarda anche me Io quando Tornerò sui Weekly Non sarò all'inizio La solita gloria Che ero Perché giustamente C'è un po' Una sorta di imbarazzo Tornare a raccontarvi Di nuovo Quello che faccio Ogni giorno Dato che si è ricreata Una privacy Nella mia vita Che non c'era Quando facevo i weekly Nel senso che Sì le cose mie private Le tenevo per me Come ho sempre fatto Però Fai vedere più te stesso Quindi mostrarsi a nudo È sempre difficile E spero che voi Questa cosa la capiate Anche nei miei confronti Anche per quanto mi riguarda È brutto leggere Dei commenti Dove ti buttano giù E ti dicono Ah però mi piacevi di più Prima Quando facevi questo La gente si evolve La gente cambia La gente cresce La gente ha voglia Di far vedere Anche altri lati Di se stesso Proprio per non Rimanere fossilizzato In una cosa Poi ci sono quelle persone Che durante Il loro percorso Su Youtube Rimangono quelle che sono Perché gli va bene così Perché prendono La loro Il loro sharing Come Hobby E basta Per me non è Solo un hobby Per me è una condivisione Del mio essere Delle mie prospettive Delle mie idee Quindi per me non è Un hobby Per me è proprio Un parlare A tu per tu Con qualcuno Per poter interagire Non tutti siamo uguali Non tutti dobbiamo Per forza essere Professionali In ogni video Ci sta quel video Dove sei completamente Fuori di testa Dove parli di cavolate Comunque anche io Ho intenzione di non Focalizzarmi troppo Sul make up Perché Non è quello Che ho voluto fare Dall'inizio Io se vi ricordate bene Chi mi segue dall'inizio Non ho mai Fatto vedere solo make up Io ho iniziato Col cosa c'è nella mia borsa Cioè quello è stato Anzi il mio primo video È stato Me singing Alejandro By Lady Gaga Quindi cioè Totalmente diverso Da quello che faccio tuttora Era una cover Ero piccolina E facevo una cover Non vuol dire Che se uno fa più video di make up Allora per la vita Deve fare quello Comunque adesso applico XHD Photogenic Concealer Questo qua è uno Dei fond Eh sì di fondotinta Perfetto Uno dei correttori Che adoravo Quando avevo provato Per la prima volta NYX Che avevo acquistato Sul sito europeo Quando NYX ancora in Italia Non esisteva E lo adoravo tantissimo È uno dei miei Era Ed è uno dei miei preferiti Mi piace tantissimo Comunque sto applicando Questo qua Che ho acquistato Anche l'altro giorno Questo qui è il NYX Come si chiama? Questo qua è il fondotinta Minerali di NYX In stick Nella colorazione numero 2 Porcellana È molto molto bello Diciamo che se volete Una copertura Tanto alta È uno stick Che non copre tantissimo Però se volete Una copertura Medio-bassa Molto naturale È molto carino Tanto non devo andare A fare una sfilata Le tengo così Poi devo uscire Devo andare a fare Un attimo shopping Per Bologna Perché non so Con come vestirmi Cosa mettere Quindi Va bene così Se volete i tutorial Un po' più professionali Andatevi a guardare Quelli vecchi Oh mio dio 31 messaggi Allora Vediamo Martina Marino13 Mi chiede Ciao Che fine hai fatto Con i capelli Poi Ve l'ho spiegato prima GloriaGlo98 Non so che domanda farti Spero di riuscire A vederti sabato Grazie tesoro Spero di vederti anch'io Televizero2 Mi chiede Sei mai stata in Calabria Se sì dove Ok questa domanda Mi volevo un attimo Dilungare Per dirvi una bella cosa Ieri in live Mi avete chiesto Delle cose Sulla mia vita Passata Nel senso Sembra che mi sono Reincarnata No Su quello che è stato Il mio passato Vi ho detto appunto Che io ho abitato In Calabria Sono stata in Calabria Ad abitare per Un anno Adesso vado ad applicare L'eyeliner Questo qua Quello di make up Fuori averla qua XL La mia mamma è calabrese Mio nonno materno Quindi il padre di mia mamma Non passavamo per niente Un bel periodo Economico Mio padre aveva perso Il lavoro Mio padre faceva Pubblicità Per i negozi di mobili Quindi organizzava tutto lui Si preoccupava Di Di pubblicizzare Proprio i negozi di mobili Quando facevano le promozioni E quando ho perso il lavoro Mio nonno Ci ha proposto Di andare ad abitare In Calabria Per aprire un bar Un'attività Un negozio E il problema è che Quando ci siamo trasferiti Ho lasciato Casa Scuola Amici Case libri Autobiaggi Fogli di giornale Tutti i contatti che avevo Mio fratello ha lasciato La ragazza L'ex ragazza Perché io ho cambiato Come vi ho detto in live Più case Che vestiti E non so se ve lo racconterò mai Però La mia infanzia è stata Molto molto difficile Piena d'amore Ma allo stesso tempo Veramente Veramente difficile Per la crescita Di due figli Che comunque Erano Nel pieno Dell'adolescenza Quando sei lì Che inizia a costruirti Dei rapporti Hai una visione Della vita Completamente diversa E completamente distorta Da quella che magari Gli altri compagni hanno Tutta fatta di nuvolette Colorate Sole Fiorellini Più è vero Più andiamo avanti Più gli adolescenti Crescono con la consapevolezza Che il mondo è una merda E questo è veramente triste Mi sono trovata subito bene Perché Sapete Sono una persona molto Spero l'abbiate capito Anche dagli incontri Che sono Sempre pronta A nuove amicizie Nonostante tutto Ero ancora di più Pronta a nuove amicizie Proprio perché L'avevo presa come una Una prova Una scoperta di me stessa Ho detto ok Cambio casa Cambio tutto Nasce una nuova gloria Vado a scuola Inizio a essere diversa Da com'era O meno impacciata Qui non mi conoscono Da quando ero più piccola Non mi prendono per il culo Per i denti Per il mio profilo Non sanno i miei problemi economici Non sanno niente di me Quindi mi posso Mettere un nuovo vestito E presentarmi Come la nuova gloria Così ho fatto Sono andata a scuola E infatti andavo a scuola Mi chiamavano La milanese È arrivata la milanese E a un certo punto È successo che ci siamo dovuti Trasferire di nuovo Perché il progetto Non era andato a buon fine Non se ne voleva più far niente Quindi ce ne siamo andati Per qualche mese Da mia zia In Cioè a Reggio Calabria Laura Lanzani chiede Ciao Glovo Volevo chiederti Come vi siete conosciuti Tu andere Da quanto state insieme Un bocione solo spettacolo Grazie Laura Questa è stata una domanda Questa è una domanda Che mi fate sempre Mi dispiace perché Ogni volta C'è sempre qualcuno Che non segue live O non vede i video Dove racconta di questo incontro Io e Andrea ci siamo conosciuti In un bar Che frequentavamo entrambi Era un bar Del paese Dove abitavo prima Che la vado ad applicare La no filter di NYX La luce sta diventando Una merda raga Scusate la luce ragazzi Ho dovuto alzare un attimo La luminosità Della videocamera Perché non so com'è Che quando giro i video O quando li gira Anche Antonio la luce qua se ne va Comunque volevo utilizzare Con voi Uno di questi tre nuovi Velvet ink di Mulac Che non so Direi che provo questo qua Mi piace molto questo No dai provo questo Perché è troppo bello Nice amici E voilà Questo è il colore Il makeup è finito Perché non voglio caricarlo troppo Come vi ho detto Devo solo uscire A fare due acquistini E basta Non devo fare niente di che E mi tengo la pelle Abbastanza leggera Per i prossimi giorni Dell'evento Qual è la cosa Che ti fa impazzire Ti adoro Grazie Alessia Alessia Ronchetti Me l'ha scritto questo messaggio Ma se parliamo ultimamente La cosa che mi fa impazzire È il dulce de leche Che acquisto nel negozio asiatico Sotto casa Molto molto buono E lo sto mangiando Sempre con le crepe Che goduria Serenere43 Di serenere Mi chiede Ciao Gloria Potresti fare Anche un video Mi trucco con voi Con i trucchi economici Tipo Essence, Catrice, Pupa, Kiko Eccetera Fammi sapere Ti adoro Grazie Serenere Allora Potrei farlo Ma Non ce li ho Nel senso che I trucchi che ho Oramai Che ho voluto tenere Perché li utilizzo veramente Sono trucchi che Secondo me Sono validi Sia per qualità prezzo Sia perché appunto Mi piacciono E li utilizzo tutti i giorni E purtroppo Questi trucchi sono Per la maggior parte Nella fascia Si possono classificare Medio-alta Questo perché Sono dell'idea Che se Vuoi un make up Che duri Che sia Comunque soddisfacente Conviene Non spendere Soldini In qualcosa Che butti dopo un mese Piuttosto Ti tieni appunto Questi soldi E li spendi In qualcosa di più Decente Di più Performante Ecco Non che Questi brand Siano Troppo cheap Perché alcuni brand Sfornano veramente Dei prodotti Molto molto validi Il problema è trovarli Perché io Essence Non compro più da tanto Catrice Non l'ho mai comprato Pupa Non l'ho mai acquistato Se non quando avevo 13 anni Dico Mi ha inviato qualche cosa Ma Oddio scusatemi Gli ho regalati Perché Alcune cose Non mi piacevano Non le utilizzavo Perché erano gloss O comunque illuminanti Che secondo me Non scrivevano Quindi non saprei Dovrei mettermi di impegno A spulciare Tra la mia makeup collection Questi prodotti E trovarveli Quindi ci penserò Se questo video vi ha intrattenuto Vi è piaciuto Fate un bel like Condividetelo con i vostri amichetti Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti E soprattutto Guardate il video assaggio Con Antonio Martina Vi mando un grosso bacio E al prossimo video Ciao Ciao